Anche la mia bacchetta è di carpine, beh proviamo se questa è la bacchetta giusta, legno di carpine Secondo me ci siamo raga, perché in base alla scelta che abbiamo fatto, secondo me adesso ti assegni una bacchetta Splendido, quindi ho già la mia bacchetta, sono molto curioso di vedere che strada sceglierà, quindi se la via del bene o la via del male Bella raga, oggi proviamo un nuovissimo tablet 11 pollici, con una risoluzione incredibile, una batteria potentissima Un processore octa-core velocissimo, tanta tanta RAM per fare tutti i vostri giochi preferiti E oggi lo proveremo grazie all'amici di Jack Bang, Howard Mystery, il gioco di Harry Potter ufficiale di Wizarding World Ma tutto questo dopo la sigla E allora iniziamo subito l'unboxing di questo tablet della N1 modello X1, N-Pad X1, powered by Android Vediamo cosa c'è all'interno, ovviamente il caricabatteria ultra rapido con un cavo doppio USB-C, eccolo qua Poi ovviamente c'è il nostro tablet, usciamolo, sbustiamolo, eccolo qua Raga, questo tablet ha una risoluzione di 2K, ve lo farò vedere appena acceso Tutto in alluminio, ecco qua il frame Qui c'è una pellicola, sì ecco, andiamo già a toglierla Sbustiamo Raga, è tutto in alluminio, ha un peso di 500 grammi circa, qualcosina in più Una fotocamera posteriore da 20 megapixel più quella macro da 2 megapixel Avanti invece c'è la fotocamera, eccola qua, 8 megapixel Togliamo la pellicola protettiva anche davanti Ecco qua Non so se riuscite a vedere amici, il tablet arriva già con una pellicola montata Quindi c'è una pellicola protettiva E andiamo a vedere lateralmente abbiamo Casto di accensione, bilancino del volume Sotto abbiamo l'ingresso di ricarica Più guardate qui amici Funziona anche con le schede sim Quindi qui all'interno potrete mettere Una micro SD per espandere ancora di più la memoria del dispositivo Oppure addirittura due sim che supportano 4G Quindi non è soltanto wifi ma è anche un dispositivo con modulo per schede sim Su retro ci sono anche due casse E vi dico subito che le casse sono addirittura amici guardate 4, 2 a destra e 2 a sinistra E insieme al tablet non arriva soltanto questa confezione Perché tramite jack buying vi arriva anche tutto il necessario per proteggerlo Ovvero una protezione dello schermo aggiuntiva Anzi questa è anche più rigida Ovviamente sagomata precisamente per questo tablet È una custodia al libro proprio per il LAN pad X1 Adesso però montiamola subito Ed ecco qua amici come si presenta il tablet nella sua custodia originale Veramente carina Ecco qua il nostro tablet con il display 2K Amici non so se rende nel video ma veramente colori nitidi e brillanti La custodia è al libro in tre posizioni Uno, due e addirittura tre Mettiamola così Voglio farvi vedere YouTube Ecco qua c'è la cronologia dei video Vediamo questo short di Sophie Come suona? Io non l'ho messo nemmeno al massimo Guardate Come pompa al massimo davvero assurdo Ma mettiamo un attimo pausa Usciamo perché voglio farvi vedere anche la fotocamera Proviamo a mettere a fuoco un soggetto Harry Potter Ovviamente non è la stessa cosa vedere tramite la fotocamera Un altro dispositivo che scatta Però vedete Ha veramente una bella risoluzione Adesso però è il momento di giocare E allora iniziamo con il nostro personaggio Raga guardate la grafica Davvero incredibile È tutto ufficiale C'è Diagon Alley C'è il Ghirigoro La Gringot C'è Ollivander delle bacchette Rowan Ciao mi chiamo Rowan Canna Anche tu ti stai preparando per la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts E certo si iniziamo questa storia Posso aiutarti io Ho letto storia di Hogwarts in vista del primo anno Quindi sono abbastanza esperto di Hogwarts Ti consiglio di cominciare comprando i libri che ti servono al Ghirigoro Ok abbiamo parlato con Rowan Andiamo al Ghirigoro Visualizza La nostra prima missione Abbiamo sbloccato il Ghirigoro Entriamo Raga questa è la storia ufficiale Quindi ci sono i personaggi principali di Harry Potter Sicuramente non ci sarà Harry Perché penso è ambientato in un altro momento Ma ci sono tutti i professori Quindi vediamo cosa fare È ora di fare scorta dei libri Tocca gli oggetti luminosi per completare le azioni e le ricompense Recupera i libri 3 di energia Ah ok raga Ecco come funziona Il sistema ti fa andare avanti Completando delle missioni Oppure delle azioni Consumando energia Che poi si ricarica col tempo Tipo esamina gli scaffali 2 di energia Il libro di animali fantastici Volta pagina Altre due di energia Vedete ora ne abbiamo 17 Di 24 C'è un'altra pila di libri Prendiamoli tutti Ho trovato tutti i libri della lista Vediamo se Rowan può aiutarmi a trovare il resto dell'equipaggiamento Quindi abbiamo finito il nostro primo task La nostra prima missioncina Torniamo a parlare con Rowan Secondo me diventerà un nostro amico questo Rowan Perché sembra quasi un po' come Ron con Harry Grazie dell'aiuto Rowan sono riuscito a trovare tutti i libri Bello Sono così emozionato per Hogwarts Che mi sono dimenticato di chiederti come ti chiami Ok dai un nome al personaggio Tyler Brooks Possiamo metterlo casuale Victor Baker Vabbè raga Io direi di confermare Tanto possiamo cambiarlo in ogni momento Giusto per vedere un po' come va il gioco Mi chiamo Victor Baker Sicuramente lo cambierò Piacere Victor Non potrei essere più emozionato l'idea di entrare a Hogwarts Chissà quale sarà il mistero di questo Howard Mystery Sicuramente una storia da svelare Continuo a fissare la mia lettera di accettazione da quando è arrivata Mi fai vedere la tua? Oh c'è la lettera di accettazione Gentile Victor Baker Siamo lieti di informarla Che ha diritto a frequentare la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts Qui accluso troverà l'elenco di tutti i libri di testo e delle attrezzature necessarie L'anno scolastico avrà inizio il primo settembre Restiamo in attesa del suo gufo entro e non oltre il 31 luglio Firmato a Minerva a McGranite Vabbè c'è il nome nuovo la McGonall Io la chiamo McGranite Ed è proprio come nel film Abbiamo ricevuto la lettera Abbiamo preso quello che ci serve E devo comprarmi qualcosa di speciale Cosa si vuole comprare? Vediamo Rowan Cosa credi che dovrei prendere Victor? Una Sharp, un maglione serio e un bel cappello Ah raga quindi noi con le nostre scelte Influenziamo sia il gioco degli altri personaggi Che probabilmente il nostro personaggio Abbiamo scelto un maglione Ok Vediamo che fa Sì si va a prendere un maglione Compro dei vestiti Tu dovresti prendere una bacchetta da Ollivander E certo direi io Come facciamo ad andare Howard senza bacchetta di Ollivander? Abbiamo sbloccato qui Ollivander Andiamo subito all'interno del suo negozio Raga guardate siamo proprio all'interno di Ollivander È uguale Facciamo swipe qui Andiamo a parlare con Ollivander Non riesco a credere di essere da Ollivander È qui che tutti comprano la loro prima bacchetta E beh certo siamo maghi quindi Di regola la bacchetta è che sceglie noi Giusto? Salve sono Garry Collivander E devo dire che assomiglia molto anche al film Lieto di conoscerla È qui per ricevere la sua prima bacchetta Dico bene? Notate che ci dà il lei Proprio come nel film Ho proprio quello che fa per lei Bacchetta di melo Bacchetta di melo Corda di cuore di drago Nove pollici rigida Su via La agiti Traccia il movimento della bacchetta Per lanciare l'incantesimo Lanciamo Eh no Non è andata per niente bene Questa bacchetta non è per noi Chiedo scusa Non è colpa sua È la bacchetta a scegliere il mago E chiaramente questa non fa per lei Eh l'avevo detto io Quindi ricordo che suo fratello Fece esplodere il mio calamaio preferito Quando provò la sua prima bacchetta Quindi raga Già si capisce nella storia Che ho un fratello più grande Che faceva il mago È un mago Conosceva mio fratello Ricordo tutte le bacchette che ho venduto La sua era di legno d'acero Corda di cuore di drago Dieci pollici Un'ottima bacchetta È un peccato che l'abbiano spezzata a metà Quando è stato espulso Ah però raga Ho un fratello Che come Hagrid È stato espulso Da Hogwarts Gli hanno spezzato la bacchetta Per quale motivo? Mi pare di capire che si è scappato di casa Dopo l'espulsione Da allora non si sia più saputo nulla di lui Ah quindi ho un fratello Che si è perso Non torna più a casa Deve essere stato un duro colpo per lei Mi è dispiaciuto per lui Ho provato molta rabbia Mi ha motivato Io direi Scelgo Mi ha motivato? Voglio soltanto riabilitare Il nome della mia famiglia E dimostrare di essere un grande mago E certo perché c'è un fratello Che è scappato di casa Si è fatto cacciare da Hogwarts Ollivander Apprezzo la sua passione La sua determinazione Penso di avere la bacchetta adatta a lei Legno di carpine Coda di cuore di drago 11 pollici Inflessibile Anche la mia bacchetta è di carpine Beh proviamo se questa è la bacchetta giusta Legno di carpine Secondo me ci siamo raga Perché in base alla scelta che abbiamo fatto Secondo me adesso ti assegno una bacchetta Splendido Quindi ho già la mia bacchetta Sono molto curioso di vedere Che strada sceglierà Quindi se la via del bene O la via del male Abbiamo completato anche questa missione Torniamo a Diagon Alley Ti piace il mio maglione? No raga Gli ho fatto comprare veramente un maglione Ti si addice Sembrerai la matricola più intelligente di Hogwarts Ma quella è una bacchetta di legno di carpine? Sì E tu come lo sai? La piantagione di alberi della mia famiglia Produce legno per bacchette e scope E' per questo che mi piace stare dentro a leggere Mi dispensa dall'uscire fuori A lavorare nella piantagione Raga è un gioco veramente bellissimo Una storia da leggere Se vi piace Fatemi sapere nei commenti Se volete vedere anche gli altri episodi Puoi essere mio amico? Non credi che sia troppo strambo? La gente di solito la pensa così Mio fratello è Jacob Baker Lo stesso Jacob Baker Che è stato espulso da Hogwarts Quindi mio fratello si chiama Jacob Il cognome l'ha preso dal nome che ho messo Ed è colui che ha infranto le regole Mentre cercava le mitiche sale maledette Sale maledette Quindi ne hanno parlato molto Sulla gazzetta del profeta A scuola lo sapranno tutti Lo so E penseranno tutti Che anche io sono strambo Possiamo essere strambi insieme Cosa vuoi che faccia Se qualcuno ti infastidisce Per via di tuo fratello? Cosa scelgo? Non dire nulla? No, fai come me, dai Posso difendermi da solo Ma sapere che sia al mio fianco Mi farebbe sentire più tranquillo Capito Userò il mio vasto vocabolario Per percuotere verbalmente Chiunque si infangare La tua reputazione Sono felice che ci siamo conosciuti Rowan Sarà bello vedere un volto amico A scuola Soprattutto uno che conosce bene Hogwarts Anche io Victor Ci vediamo a settembre Sul Loguard Express Un po' proprio come nei film E nei libri Il primo settembre Inizierà la nostra avventura Abbiamo completato anche questa missione Ed è terminato il capitolo 1 Completato Il tuo viaggio inizia qui Raccogliamo le ricompense Ma per vedere il capitolo 2 Amici Commentate se vi interessa Il resto di questa storia Possiamo farla Perché sembra veramente Un'avventura interessante Piena di misteri e di fascino E se invece siete interessati All'acquisto di questo tablet Su Jackbuying In offerta Lo trovate nel link in descrizione Al prezzo di 175 euro Anziché 225 Fino a fine mese di aprile Per il momento è tutto Vi saluto al prossimo video E ciao